a martedì undici settembre buongiorno Friuli e bentrovati a questo nostro primo appuntamento in diretta di oggi dedicato come sempre alla rassegna stampa una prima diretta che inizia prendo una finestra sul nostro Friuli Venezia Giulia e allora vediamo assieme cosa ci mostra la webcam che abbiamo scelto per voi oggi dal sito dell'Osmer Arpa alle montagne della nostra regione ecco e su questa immagine diamo uno sguardo veloce anche alle temperature previste per la giornata di oggi anzi le temperature che si registrano in questo momento a Udine abbiamo 15 gradi e 8 decimi a Gorizia 18 gradi e 7 sulla costa Trieste 22 gradi e 2 decimi 17 gradi e 3 a Pordenone salendo appunto in montagna 15 gradi e 7 a Tolmezzo 11 gradi e un decimo a Tarvisio 11 gradi e 9 sul monte Lussari la giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature alte in quota e farà piuttosto caldo con temperature che oggi raggiungeranno i 29 e 31 gradi in pianura sulla costa soffierà un po' di brezza queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi subito un aggiornamento veloce anche sulla situazione viabilità vediamo il sito infotraffico di Autovie Venete andiamo a vedere assieme se si segnalano delle situazioni di particolare criticità in questo momento situazione fortunatamente quasi tranquilla vediamo l'aggiornamento degli ultimi secondi con delle code tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana ecco qui l'informazione code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Porto Gruaro quindi in direzione Venezia. Dopo gli aggiornamenti meteo e viabilità possiamo iniziare la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani nazionali subito il Corriere della Sera vediamo la politica in apertura con le tensioni fra Lega e Movimento 5 Stelle ecco il titolo sale la tensione andiamo a vedere perché di Battista ha detto rendano i 49 milioni la Lega restituisca i 49 milioni allo Stato dopo la condanna dei giorni scorsi Salvini replica pensi a divertirsi in Guatemala e poi la questione delle aperture domenicali dei negozi il carroccio frena sui negozi chiusi la domenica vanno escluse le città turistiche poi vedremo questo tema ripreso anche dai quotidiani locali nel taglio alto invece l'unispezione dell'ONU in Italia sulla questione migranti ispezione sui migranti scontro ONU Italia c'è razzismo e noi vi tagliamo i fondi l'ONU manderà i suoi ispettori in Italia l'accusa mossa dall'alto commissario per i diritti umani è quella di violenza e razzismo il ministro dell'interno Salvini dice prevenuti e disinformati non accettiamo lezioni da nessuno ancora a centropagina lo sport il calcio con la sconfitta della nazionale ieri sera contro il Portogallo sono già in crisi gli azzurri di Mancini scrive il Corriere una brutta Italia perde con il Portogallo a Lisbona gli azzurri sono apparsi privi di idee con troppe sbavature in difesa a decidere la partita un gol dell'ex milanista Andrè Silva ora è in salita il cammino in Nations League chiudiamo il Corriere andiamo su Repubblica e vediamo che anche qui in apertura abbiamo la stessa notizia Movimento 5 Stelle Lega divisi sui 49 milioni e si apre anche il fronte europeo Di Battista dice le sentenze si rispettano soldi da restituire i grillini per le sanzioni a Orban A Bruxelles la delegazione del Movimento 5 Stelle pensa di votare le sanzioni contro Orban Alleato di Matteo Salvini scrive Repubblica Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina di Libero Ecco il titolo Vuole indagare per razzismo gli italiani l'ONU straparla scrive Libero Invierà ispettori per valutare l'incremento di atti violenti contro migranti e Roma anche se i reati sono in forte calo Salvini cosa pretendono questi abbiamo già accolto 700 mila stranieri Taglieremo i fondi al Palazzo di Vetro E poi giovani leghisti aggrediti mentre raccoglievano firme a sostegno del leader del Carroccio Andiamo anche sul giornale e vediamo anche qui in apertura la stessa notizia Il titolo del giornale è Manicomio ONU Italiani razzisti e violenti Accogliamo 700 mila migranti ma ci mandano gli ispettori Ancora andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa che invece apre con una notizia diversa Due decreti del governo a misura di fincantieri per ricostruire il ponte Via la concessione d'autostrada e niente gara europea Di Maio vuole diratare i ricorsi nel tempo per evitare il blocco dell'opera Piazza Pulita Questo è il messaggio che i capi dei 5 Stelle vogliono concretizzare a tutti i costi al più presto Nella gestione del dopo tragedia a Genova Fuori autostrade da tutta la rete nazionale E i lavori per la ricostruzione del ponte di Genova affidati a fincantieri È la linea del governo che studia due decreti per dilatare i tempi dei ricorsi Ed evitare sospensioni a breve La società si prepara alla battaglia legale Chiudiamo anche la stampa e andiamo adesso sulla prima pagina del sole 24 ore Che apre con gli ultimi dati sulle performance di piazza affari Piazza affari al top in Europa più 2,3% Spread in forte calo Le rassicurazioni del governo sul deficit portano il differenziale sotto 250 punti base Il listino azionario trascinato soprattutto dal comparto bancario I titoli del credito hanno recuperato il 4,2% in una seduta Banca MPS più 8,2% Ancora andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del gazzettino L'edizione nazionale La prima pagina dell'edizione nazionale Razzismo scontro con l'ONU Questa è l'apertura del gazzettino Troppa intolleranza e violenza verso Roma e stranieri Manderemo gli ispettori in Italia Ma Salvini attacca Non accettiamo lezioni Tagliamo i nostri 100 milioni di finanziamenti Andiamo anche sulla gazzetta dello sport Così vediamo anche la prima pagina di un quotidiano sportivo C'è la nazionale in primo piano L'Italia non se destra Titola la gazzetta Mancini ne cambia 9, stravolge la squadra Risultato pessimo Ora rischiamo la serie B Ci salvano Donnarumma, Romagnoli e Zaza Ci condanna una rete di Andrè Silva Chiudiamo anche la gazzetta E andiamo adesso subito sulle prime pagine dei quotidiani locali Andiamo a vedere i titoli principali Andiamo a vedere le notizie che arrivano dal nostro territorio Cominciamo con il messaggero Veneto di Udine E vediamo subito il titolo di apertura C'è la scuola, la questione vaccini in primo piano Vaccini, migliaia a rischio multa Già esclusi dagli asili 350 bimbi non in regola E la polemica continua A Udine duro scontro tra gli attivisti Novax e l'infettivologo Bassetti E allora andiamo nelle pagine interne E andiamo a vedere qualche particolare in più su questa notizia Ecco tutti i numeri nelle primissime pagine del messaggero Veneto di Udine Ecco qua, vaccini, multe per 8.000 famiglie in 350 Esclusi al primo giorno di asilo Sono gli effetti della legge Lorenzin In sanzione fino a 167 euro e rientro in classe solamente dopo essersi messi in regola Questo quanto prevede la legge Lorenzin che tra l'altro oggi affronterà l'esame più importante Scrive il messaggero con il passaggio alla Camera del Mille Proroghe Lo spartiacque da cui dipende il via alle sanzioni Nei distretti di Udine e Civitale Tarcento 2.500 piccoli non hanno la profilassi E poi dicevamo dello scontro anche in comune a Udine Raccontato in questo articolo che troviamo a pagina 3 Duro faccia a faccia con attivisti Novax L'infettivologo Bassetti minaccia di uscire Bassetti partecipa alla Commissione Politiche Sociali a Udine Dice non è il luogo per discutere i passi avanti della scienza E poi vediamo anche le parole dell'assessore comunale Barillari Che dice il compito del comune è promuovere l'informazione scientifica Sui rischi e benefici della profilassi Raccomandiamo alle famiglie di rivolgersi agli specialisti Queste le parole dell'assessore Torniamo in prima pagina adesso A centro pagina la fotonotizia di un velooc Finito nel mirino dei vandali Strage di veloocchi in Friuli Una colonnina su 5 è stata presa di mira dai vandali Funzionano? No O almeno non come rilevatori di velocità Fanno paura agli automobilisti? Evidentemente sì Almeno a giudicare dall'impressionante sequenza di atti vandalici Di cui sono bersaglio In meno di 5 anni sono stati più di 50 i veloocchi danneggiati in Friuli Venezia Giulia Un numero altissimo che andrebbe persino rivisto al rialzo Considerato che moltissimi vandalismi non vengono denunciati né registrati Ancora andiamo di spalla Il passaggio delle frecce per l'apertura di Friuli Doc Saranno le frecce tricolori ad aprire la ventiquattresima edizione di Friuli Doc Con un sorvolo in Piazza Libertà E vediamo che è proprio Friuli Doc che apre le pagine dedicate a città e provincia La panna saluta Friuli Doc Le frecce tricolori voleranno per il debutto Il sorvolo è previsto giovedì in concomitanza con la cerimonia di inaugurazione Stand dell'ERSA con il meglio dei prodotti locali Dal San Daniele alla pezzata rossa Ecco qua poi tutto il calendario degli eventi previsti appunto per Friuli Doc In particolare nello stand dell'ERSA Ancora torniamo in prima pagina Andiamo a leggere ancora qualche titolo Sempre di spalla Per quanto riguarda la cronaca Autorovinata da un afgano Lui è già libero Lei piange Non è riuscita ad attendere in aula il termine dell'udienza Celebrata con rito direttissimo La ragazza, la donna anzi Ha sottolineato il fatto che difficilmente Otterrà un risarcimento per il danno che ha subito E poi la nuova rotonda in Viale Palmanova Già le prime proteste per la nuova rotonda In tanti dicono non è sicura Difficile attraversare la zona dopo questi lavori Dopo che è stato tolto il semaforo Ecco qua l'articolo Incidente alla nuova rotonda Preoccupazione per i pedoni È stata urtata una ciclista E i genitori della fermi avvertono Pedoni a rischio Senza il semaforo I bambini non attraversano la strada in sicurezza E a proposito di incidenti stradali Di ciclisti investiti C'è un incidente purtroppo con esito mortale Avvenuto nel Pordenonese Ecco l'articolo Un giovane ragazzo Un ragazzo di 15 anni È stato travolto e ucciso da un camion Nel successo Avajont Il ragazzo ungherese Domiciliato a Cordenons Procedeva in bici Investito sotto gli occhi del compagno Della madre È successo attorno alle 19 di ieri La bicicletta è finita in pezzi Dopo l'urto col bilico L'autotrasportatore non è riuscito a evitarlo E poi nell'articolo che troviamo nel taglio basso Un precedente Una curva cieca e pericolosa Nel 2001 Un incidente analogo Morì un anziano di Maniago Il comune ha poi chiesto più volte La modifica della viabilità Ma non se n'è mai fatto nulla Torniamo adesso sulla prima pagina Del messaggero Veneto di Udine E vediamo per quanto riguarda Ancora la cronaca Nel taglio basso Incendio devasta Il santuario della Madonna Delle Pianelle A Nimi Si è stata distrutta Una pala d'altare Dedicata a San Valentino Il rogo Ci dice questa didascalia della foto Sarebbe stato causato Da alcuni ceri E poi per quanto riguarda la politica Vediamo 20 ex deputati Del Friuli Venezia Giulia Non mollano sui vitalizi Si sono affidati all'avvocato Maurizio Paniz Per presentare ricorso Contro i tagli ai vitalizi Voluti dal Movimento 5 Stelle Il penalista rappresenterà Oltre 400 ex parlamentari In tutta Italia Dei 700 che hanno deciso Di intraprendere una battaglia legale Per chiedere il ripristino Delle pensioni d'oro E a proposito di parlamentari Sull'Espresso Un attacco Al leghista udinese Mario Pittoni Per il suo ruolo Nella commissione istruzione Al Senato Con la terza media E alla guida Dell'istruzione Queste le parole Dell'Espresso La replica del diretto interessato Non ho mai smesso di studiare Andiamo nel taglio alto Adesso per leggere ancora Qualche titolo Vediamo Il silenzio dell'acqua Ambra gira In regione Ambra Angioini In questi giorni A Trieste Per girare Una fiction Che andrà in onda su Mediaset Nelle pagine Dedicate agli spettacoli Poi abbiamo Una lunga intervista E a proposito Di show televisivi Elisa Il medico Frulano in gara Con i pasticceri Sarà protagonista Di un reality Televisivo E poi Spazio anche A un libro Da Sbirria Detective Storia della polizia Anche qui Tutti gli approfondimenti Nelle pagine Della cultura Rimaniamo sul Messaggero Veneto Andiamo In provincia Di Pordenone Andiamo nella destra Tagliamento E vediamo Anche qui Il titolo Che apre Le pagine Locali Ripartita la scuola Tra cantieri E disagi Prof centralinisti Oggi Primo Sciopero A Meduno L'unica impiegata San Mala Docenti A turno Al telefono Lavori in via Capuccini Navetta gratis Alla 4 novembre Primo giorno di scuola E subito emergono Diversi problemi Il caso limite Lo si registra A Meduno Dove gli insegnanti Devono rispondere Al telefono Perché la segreteria È deserta E oggi appunto Ci sarà Lo sciopero Indetto A livello nazionale Dall'ANIEF Uno sciopero Per la riapertura Delle graduatorie A esaurimento A proposito di scuola Andiamo anche nel lisontino Cambiamo giornale Andiamo sul piccolo E vediamo Che ieri Ha riaperto I battenti Anche la scuola Aperco A Gorizia Lo ricorderete La scuola Teatro Di Una serie Di atti di vandalismo Lo scorso anno Da parte di Un gruppo Di ragazzi Era stata riaperta Dopo alcuni lavori Di sistemazione Poi era stata Richiusa Per Gli odori Che si percepivano Nettamente All'interno Della struttura Dopo I lavori Di sistemazione E adesso Riapre L'anno scolastico E riapre La scuola Scuola A Gorizia Partenza senza Intoppi La perco Sorvegliata Speciale Da genitori Comune E forze Dell'ordine Ecco qua Senza intoppi Il primo giorno Di scuola A Gorizia Centinaia di ragazzini In abiti estivi Visto il caldo Si sono presentati In classe Occhi puntati Sulla perco Di Lucinico Rimessa a posto E bonificata Dopo l'incendio Doloso Il comune Ha illustrato I lavori Eseguiti Ai genitori E poi Rimanendo Sempre sulle pagine Isontine Del piccolo Sulle pagine Di Gorizia Andiamo A vedere Il titolo Principale C'è La cronaca In primo piano Con I ladri In azione Nei campi Spariscono I mezzi Agricoli Nei colpi Messi a segno Sulla Mainizza E' stato rubato Anche un motocoltivatore La pista Dei furti Su commissione Di attrezzi Di attrezzi Da lavoro E poi Villa Svaliggiata Anche a Lucinico In passato Lo stesso Proprietario Derubato Di un altro Trattorino Nuovo Di Zecca Andiamo anche Nel Monfalconese Andiamo a Monfalcone Sempre attraverso Le pagine Del piccolo Anche qui C'è la scuola In primo piano Confusione totale Sul numero Dei bimbi Costretti A cambiare La scuola Materna Una questione Legata Al tetto Di alunni Stranieri Imposto Dal comune Di Monfalcone Non si è mosso Per assenza Di passeggeri Lo scuolabus Che doveva portare Gli alunni Al villaggio E a Ronchi Ora ci sono Più disponibilità Che bambini Iscritti Ma tendiamo I dati definitivi Delle dirigenze Ha sottolineato L'assessore All'istruzione Antonio Garretani Come ombre Nella nebbia Alla fine I numeri Sui bambini Prima rimasti In vista D'attesa Per l'accesso All'asilo pubblico E poi Asseritamente Assorbiti Da tutti i posti Ritagliati Su misura Dalle dirigenze Scolastiche Di concerto Con l'amministrazione Sfuggono La certezza Che ieri Lo scuolabus Per fare la spola Al villaggio Del pescatore O a Ronchi Dei legionari Oppure ancora A Turiaco Cioè verso Le municipalità Designate All'accoglimento In convenzione Con lente Permense E trasporti Appunto Non è uscito Dai depositi Comunali E dunque I piccoli Per la maggior parte Stranieri A differenza Di tanti altri Coetane Ieri Non hanno fatto Conoscenza Con le prime maestre Del loro Si immagina a lungo Percorso Scolastico Rimaniamo Sul piccolo Adesso Ma andiamo Sull'edizione Di Trieste Sulla prima pagina Del piccolo Di Trieste Ecco qua La prima pagina Anche qui Ci sono Le scuole In primo piano Primo giorno Di scuola A Trieste Poliziotti Schierati E davanti Agli istituti Per la stretta Antibullismo Ecco qua La notizia In primo piano Il prefetto Porzio Dopo un vertice Con le forze Dell'ordine Ha risposto Controlli Serrati Fra medie E superiori E poi c'è la novità Dell'app YouPoll Ieri intanto Professori Immediatamente Chiamati A dare Risposte Sulla Maturità Primo giorno Di scuola Anche a Trieste Con le forze Dell'ordine Appunto In primo piano Per quanto riguarda I controlli Andiamo adesso Ritorniamo adesso Sulla prima pagina Del piccolo Di Trieste Vediamo il titolo Di apertura Dedicato Appunto Al tema Delle chiusure Domenicali Dei negozi Negozi Chiusi alla domenica Il Friuli Venezia Giulia Approva Le limitazioni L'assessore Dice Così si tutelano I più piccoli E adesso protesta Solo La grande Distribuzione La proposta Di legge nazionale Sulle chiusure Domenicali Dei negozi Avanzata a livello Governativo Dal Movimento 5 Stelle E avvallata Con qualche Distinguo Anche dalla Componente Leghista Conquista La regione E conf Commercio Protesta Invece Il comparto Della grande Distribuzione Del Friuli Venezia Giulia Mentre Un plauso Arriva Dai sindacati A far Propria L'idea Di una Regolamentazione Che limiti Il numero Di aperture Festive L'assessore Regionale Competente Sergio Bini Così si tutelano I negozi Più piccoli Ma le saracinesche Non si abbasseranno Nelle città Definite Turistiche Tra cui Trieste Dove Invece Continuerebbe A vincere La più completa Liberalizzazione Mugugni Partito Democratico E Forza Italia Nelle pagine Interne Poi Troviamo Tutto L'articolo Tutti gli Articoli Anzi Con Le parole Come abbiamo Già letto in prima Pagina Di Regione E Conf Commercio Nel taglio Basso Invece Vediamo Bolzonello Del Partito Democratico Che dice Basta Proclami Anche Forza Italia Critica La Mossa Bolzonello Aggiunge Contemplino Le esigenze Di Lavoratori E Aziende E Invece Forza Italia Che dice Il Commerciante Deve Poter Scegliere Arriva Appunto L'ok Invece Da Lega e Movimento 5 Stelle Che Dicono Serve Un Limite Alla Attuale Deregulation E A Palazzo S'insinua All'ombra Di Un'alleanza Giallo Verde Quindi Tra Dopo L'apertura Di Zoccano Nei Confronti Di Fedriga Il PD Evoca Il Cambio Di Alleanza Seracchiani Dice L'obiettivo E Portare La Destra Al Potere Tornando Alla Questione Commercio Anche I Sindacati Piace Molto L'idea La Strada Tracciata E Quella Giusta Dicono I Sindacati Chiudiamo Anche il Piccolo E andiamo Adesso Sul Gazzettino Del Friuli Ecco La Prima Pagina Del Fascicolo Locale C'è Friuli Doc In Apertura Con Le frecce Che inaugurano Friuli Doc Ieri L'annuncio Ufficiale Dell'assessore Maurizio Franz La pattuglia Acrobatica Farà Un Sorvolo Durante La Cerimonia Ieri Una Riunione Operativa Per fare Il Punto Sulle Modalità Presentato Il Programma Dell'ERSA Resterà Come Garante Di Qualità E Poi A Centropagina Questa Foto Notizia Che Ci Racconta La Storia Di Un Inconsueto Pellegrinaggio Datti Mau A Roma In bici Dal Papa Per Ricordare Le Portatrici Percorreranno In tutto Oltre 885 Km Con Un Disrivello Di 6200 Metri Per Arrivare A Roma Dal Papa E Ricordare Così Le Portatrici Carniche Per La Vicenda Di 6 Ragazzi Del Tarvisiano Che Si Sono Persi Sul Monte Forno Dopo Aver Partecipato Alla Festa Dell'amicizia Sono Stati Recuperati Nella Notte Le Difficoltà Principali Per Il Loro Recupero Legate Al Fatto Che Nella Zona C'è Un Segnale Telefonico Scarso Quasi Assente La Localizzazione Quindi Non è Stata Molto Agevole E poi Vediamo Anche qui Il caso Di Cronaca Riferito Anche dal Messaggero Il Profugo Tutelato Io Mi Tengo Il Danno All'auto La proprietaria Dell'auto Vandalizzata Si sfoga C'è scritto Che la Legge È Uguale Per Tutti Ma Non è Così Io Mi Tengo Il Danno Chi Lo Ha Provocato È Tutelato La Questione Virus Della Febbre Del Nilo Gli Esperti Dicono I I cittadini Collaborino Senza L'aiuto Dei Cittadini Il Sessanta Percento Del Lavoro È Perso Purtroppo Non c'è Tanto Desiderio Di Darsi Una Mano È Un Caloroso Invito Alla Collaborazione Civica In tutto Il Friuli Venezia Giulia Quello Rivolto Dall'azienda Sanitaria Universitaria Integrata Di Trieste Referente Per L'intera Regione In Materia Di Prevenzione Delle Malattie Da Quei Comportamenti Che Riducono Il Proliferare Delle Zanzare Alignano Turista Muore In Spiaggia Un Turista Viennese Di 55 Anni È Avuto Un Malore Mentre Stava Facendo Un Bagno In Mare Le Giostre Di Santa Caterina Arrivano Il Primo Novembre Ecco Il Titolo Nel Taglio Basso E Poi Lo Sport Con L'Udinese La Squadra Degli Anni Novanta La Rosa Fiorentina È la Più Giovane Di Tutta La Serie A Ma È L'Udinese Seconda In Gioventù Nella Classifica Anagrafica Quella Che Vanta Il Maggior Numero Di Giocatori Nati Dal 1990 Andiamo Nel Taglio Alto Così Leggiamo Ancora Qualche Titolo Sempre sul Gazzettino Del Friuli Procedure Più Snelle Il Carroccio Studia Una Norma Per Limitare E Ridurre Le Incombenze Burocratiche In Tanti Settori E Poi Anche Sul Gazzettino Ovviamente Il Primo Giorno Di Scuola E Come Abbiamo Visto Anche Sugli Altri Quotidiani In Il Friuli Venezia Giulia Set Per Le Riprese Di Alcune Serie Televisive In Programma In Primavera Vediamo Sul Foto Ambra Angioini Sul Set Fra Trieste E Gorizia Chiudiamo La Pagina Del La Prima Pagina Del Gazzettino Del Friuli E Chiudiamo Anche Questa Prima Parte Della Nostra Rassegna Stampa Adesso Come Sempre È Il Momento Di Fermarci Per Qualche Minuto Di Pubblicità E Poi Saremo Di Nuovo Assieme Per Proseguire La Lettura Dei Quotidiani Di Oggi Concentrandoci Sulle Notizie Sportive Tra A poco